L'ultimo blizzo delle forze dell'ordine di pochi giorni fa. I giardini dell'arena inseriti in tutte le guide turistiche sono però ben noti anche per il degrado, lo spaccio di droga e il commercio di bici rubate. Per il sindaco Giordani il recupero di quest'area della città era una priorità dell'amministrazione. In questi mesi però non è cambiato nulla. Non si vede nulla, qui è buio fondo però la speranza è sempre l'ultima a morire. Fino ad oggi l'impegno che è stato profuso per questo parco sotto il profilo della vigilanza è stata con i nonni vigili che hanno fatto un lavoro diciamo nelle loro possibilità con i loro limiti. Sono state raccolte delle firme. Le associazioni dei militari in congedo sono pronte a occuparsi della vigilanza in sostegno alle forze dell'ordine. Il comune ha accettato la proposta, ora però bisogna passare i fatti. In programma c'è la firma del protocollo d'intesa. L'amministrazione comunale sa la nostra proposta. Siamo qui. Nel momento in cui loro decidono noi siamo pronti. Le idee dell'associazione sono chiare. Punti di ristoro, percorsi vita, giochi per i bambini e poi più illuminazione ed eventi culturali. Rivitalizzare il parco insomma e così dare sicurezza ai frequentatori grazie a chi la sicurezza l'ha fatta per lavoro. Che gli diciamo a Giordano? Giordano è stato un imprenditore, non è stato un poliziotto. In materia di sicurezza deve ancora fare esperienza. Noi siamo pronti a dargli qualche consiglio serio. Grazie a tutti.